E' giallo sul macabro ritrovamento di un cadavere nella pineta di Via dell'Azzorre, a Nuova Ostia, nei pressi della scuola Parini. Si tratterebbe del corpo di un uomo che non presenterebbe segni di violenza dell'apparente età di 35 anni. Probabilmente un senza fissa dimora dell'Europa dell'Est che viveva in una tendopoli all'interno della pineta. Possibile malore la causa del decesso. L'uomo indossava degli abiti asciutti. Si ipotizza sia stato portato fuori dalla sua tenda dopo il decesso, avvenuto circa dieci ore prima. Ad effettuare il ritrovamento un passante che questa mattina intorno alle 9.40 aveva portato a passeggio i propri cani. Nel luogo del ritrovamento nei mesi scorsi sono stati ritrovati altri due corpi privi di vita. Sul posto la polizia di Ostia, il 118 e il medico legale per stabilire le cause del decesso. Grazie a tutti.